Da oggi non sarà più necessario fare le lunghe file presso gli sportelli dei distretti sanitari per chiedere l'esenzione in base al reddito dal pagamento del ticket sanitario. Infatti, a seguito di una convenzione stipulata tra l'ASL Salerno e la CGL, anche il patronato Inca ha aperto un apposito sportello dove è possibile richiedere il rilascio della relativa certificazione. Un nuovo servizio che il sindacato offre ai propri iscritti nell'ambito di una più generale azione di rilancio dell'attività sindacale anche nel comprensorio di Agropoli e del Cilento. Sono stati davvero numerosi i cittadini che si sono già recati presso la sede in via Carmine Rossi anche per la presentazione delle domande inerenti, la pensione e il reddito di cittadinanza, le nuove misure varate dal Parlamento che inizieranno ad essere liquidate dal prossimo 27 aprile. Intanto una nuova categoria sindacale sarà a disposizione dei lavoratori di Agropoli e dintorni. La FLAI, Federazione Lavoratori dell'Agroindustria, che insieme al comparto scuola FLC, agli edili della Fillea e al patronato Inca, affiancherà i pensionati dello SPI nella conduzione e nella crescita della Camera del Lavoro. Ecco gli orari e i riferimenti presso la sede, tutti i giorni dalle ore 9.30 alle 12 e dalle 16.30 alle 19. Inca, Istituto Nazionale Confederale di Assistenza, il martedì dalle 9.30 alle 12, il giovedì dalle 17 alle 19. Fillea CGL mercoledì dalle 16.30 alle 19. FLC CGL giovedì dalle 16.30 alle 19. Fly CGL martedì dalle 9.30 alle 12, venerdì dalle 17 alle 19.